andrea camilleri il patto tutta vestita di nivuro tacchi alti cappellino fuori moda borsetta di pelle lucida appesa al braccio destro la signora perché si capiva benissimo che era una signora ed antica classe procedeva a passi piccoli ma decisi sul ciglio della strada occhi a terra incurante delle rare auto che la sfiorava magari di giorno quella donna avrebbe attirato l'attenzione del commissario montalbano per la distinzione e l'eleganza d'altri tempi figurarsi alle due e mezzo di notte su una sciata fuori paesi montalbano stava tornando alla sua casa di marinella dopo una lunga giornata di travaglio al commissariato era stanco ma viaggiava a lento dai finestrini aperti dell'auto gli arrivavano gli odori di una notte di mezzo maggio ventate di gelsomino dai giardinetti delle villa alla sua destra folate di salmastro dal mare a sinistra dopo avere per un pezzo proceduto dal re la signora il commissario le si affiancò e piegandosi sul sedile del passeggero le spiò occorre niente signora la donna manco isolatesta non fece il minimo gesto proseguì il commissario accese gli abbaglianti fermò l'auto scese e le si parò davanti impedendole di proseguire solo allora la signora per niente scantata si decise a tagliarlo alla luce dei fari montalbano vide che era molto anziana ma gli occhi erano di un azzurro intenso quasi fosforescente stonavano col resto della faccia per la conservata giovinezza indossava degli orecchini preziosi attorno al collo una splendida collana di perle sono il commissario montalbano disse per rassicurarla magari se la femmina non dava il minimo segno di nervosismo piacere io sono la signorina angela clemenza desidera aveva calcato sul signorina il commissario sbottò io non desidero niente le pare logico andarsene in giro parata così a quest'ora di notte da sola lei è stata fortunata che non l'abbiano ancora derubate gettate in un fosso salga in macchina l'accompagno non ho paura e non sono stanca era vero aveva il respiro regolare sul suo viso non c'era traccia di sudore solo le scarpe imbiancate dalla polvere dicevano che la signorina aveva camminato a piedi per un lungo tratto montalbano con due dita le pigliò delicatamente un braccio la sospinse verso la macchina angela clemenza per un momento ancora lo taliò l'azzurro dei suoi occhi si era come impastato di viola era evidentemente arrabbiata ma non disse niente salì appena assittata in auto poggiò la borsetta sulle ginocchia si massaggiò leggermente l'avambraccio destro il commissario notò che la borsetta era gonfia doveva pesare dove l'accompagno contrada gelso le dico io come arrivarci il commissario tirò un sospiro di sollievo contrada gelso non era lontana stava dalla parte di campagna a pochi chilometri da marinella avrebbe voluto spiare alla signorina come mai si fosse venuta a trovare sola di notte diretta a casa a piedi ma il ritegno e la compostezza di lei l'intimidivano da parte sua la signorina clemenza non rapribocca se non per brevi indicazioni sulla strada da pigliare superato un grosso cancello in ferro battuto e percorso un viale perfettamente tenuto in ordine montalbano si fermò nello spiazzo davanti a una villetta ottocentesca a tre piani intonacata di fresco linda con la porta e le persiane che parevano allura allura pittate di verde scesero lei è una persona squisita grazie fece la signorina e tese il braccio montalbano sorpreso di se stesso si inchinò e le baciò la mano la signorina clemenza gli voltò le spalle armeggiò nella borsetta tirò fuori una chiave rapri la porta trasi e richiuse non erano manco le sette del matino che la risbigliò una telefonata di mimì augello il suo vice scusami salvo se ti chiamo a quest'ora ma c'è stato un omicidio sono già sul posto ti ho mandato una macchina ebbe appena il tempo di farsi la barba che l'auto arrivò e chi hanno ammazzato lo sai un professore in pensione si chiamava corrado militello fece la gente alla guida abita dopo la vecchia stazione la casa del fu professor militello sorgeva sì dopo la vecchia stazione ma in aperta campagna prima che montalbano oltrepassasse la soglia mimì augello che quella matina gli era pigliata di volere parere il primo della classe l'informò il professore aveva passato l'ottantina viveva solo non si era mai maritato da una decina d'anni non isciva più di casa ogni matina veniva una cammarera la stessa da trent'anni quella che l'ha trovato morto e ci ha telefonato la casa è fatta così al piano di sopra ci sono due grandi cammare da letto due bagni e un cammarino al piano terra un salotto una piccola sala da pranzo un bagno e uno studio è lì che l'hanno ammazzato pasquano è all'opera nell'anticamera la cammarera assittata in pizza una seggia piangeva in silenzio muovendo il busto avanti e nel re il corpo del professor corrado militello giaceva diverso sulla scrivania dello studio il dottor pasquano il medico legale lo stava esaminando l'assassino disse mimì augello ha voluto sadicamente spaventare il professore prima d'ammazzarlo tali acqua ha sparato al lampadario alla libreria quel quadro mi pare che sia una riproduzione del bacio di velasquez hayez corresse stancamente montalbano alla finestra e l'ultimo colpo l'ha riservato a lui un revolver non ci sono bossoli non perdiamoci nel conteggio dei colpi intervenne il dottor pasquano sono stati cinque d'accordo mamma c'ha risparato al busto di wagner che è di bronzo la pallotto l'ha rimbalzato e ha pigliato in piena fronte professore ammazzandolo augello non replicò nel camino una montagna di carta incenerita montalbano si incuriosì spiò con gli occhi al suo vice la camera era ma detto che da due giorni stava a bruciare lettere e fotografie rispose augello le teneva in questo baule qua che ora è vacante evidentemente mimì augello si trovava in una di quelle giornate nelle quali se si metteva a parlare non si fermava manco a cannonate la vittima aperto all'assassino non c'è traccia d'effrazione sicuramente lo conosceva si fidava uno di casa e sai che ti dico salvo da qualche parte sbucherà un nipotuzzo che da troppo tempo stava ad aspettare l'eredità e ha perso la pazienza si è scassato la minchia il vecchio era ricco case terreni edificabili montalbano non lo stava a sentiri era perso dal re ricordi di pellicole poliziesche inglesi fu così che fece una cosa che aveva già visto fare in uno di questi film si calò verso il camino infilò una mano d'intra la cenere e tastiò ebbe fortuna sotto le dita gli venne un quadratino spesso di cartoncino era un frammento di fotografia grande quanto un francobollo lo taliò e provò una scossa elettrica mezzo volto di donna ma come non riconoscere quegli occhi trovato niente spiò ogello no disse montalbano senti mimì occupati tu di tutto io ho da fare e salutami il giudice quando arriva si accomodi si accomodi disse la signorina angela clemenza chiaramente contenta di rivederlo e venga da questa parte la casa è diventata troppo grande per me da quando è morto mio fratello il generale mi sono riservata queste tre camere al piano terra mi risparmio le scale le nove e mezzo del matino ma la signorina era inappuntabile a petto di lei il commissario si sentì sporco e trasandato posso offrirle un caffè non si disturbi devo farle solo qualche domanda lei conosce il professor corrado militello dal 1935 commissario allora avevo diciassette anni lui uno più di me montalbano la taliò fisso niente nessuna emozione gli occhi un lago d'alta montagna senza increspature è con grande dispiacere mi creda che sono costretto a comunicarle una cattiva notizia ma la conosco già commissario gli ho sparato io a montalbano gli mancò la terra sotto i piedi la stessa precisa impressione che aveva provato nel terremoto del belice franò su una seggia che fortunatamente era alle sue spalle pure la signorina clemenza s'assittò compostissima perché arriniscia ad articolare il commissario è una storia vecchia come il cucco si annoierà le garantisco di no vede dalla seconda metà dell'ottocento in poi per ragioni che non so e che non ho mai voluto sapere la mia famiglia e quella di corrado pigliarono a odiarsi ci furono morti duelli ferimenti capuleti e montecchi ricorda e noi due invece di odiarci ci innamorammo romeo e giulietta appunto i nostri familiari i miei e i suoi stavolta alleati ci separarono a me mi misero con le monache e lui andò a finire in collegio mia madre sul letto di morte mi fece giurare che non avrei mai sposato corrado o lui o nessuno dissi invece a me stessa e corrado fece lo stesso per anni e anni e anni ci siamo scritti ci telefonavamo facevamo in modo di incontrarci quando restammo solo noi due i superstiti delle nostre famiglie io ormai avevo 62 anni e lui 63 convenimmo che a quell'età sarebbe stato ridicolo maritarci sì va bene ma perché sei mesi fa mi fece una lunghissima telefonata mi disse che non ce la faceva più a stare solo voleva maritarsi con una vedova sua lontana parente ma come gli domandai a 60 anni lo trovavi ridicolo e a 80 no capisco è per questo che lei vuole babbiare per me poteva maritarsi cento volte il fatto è che mi telefonò il giorno appresso mi disse che non aveva chiuso occhio confessò d'avermi mentito non si sposava per paura della solitudine ma perché di quella fimmina si era veramente innamorato allora lei capisce le cose canciavano ma perché perché avevamo pigliato un impegno fatto un patto si susì raprì la stessa borsetta della sera avanti che era posata su un tavolinetto ne trasse un bigliettino ingiallito lo prui al commissario noi angela clemenza e corrado militello davanti a dio giuriamo quanto segue chi di noi due si innamorerà di una terza persona pagherà con la vita il tradimento letto firmato e sottoscritto angela clemenza corrado militello vigata lì 10 gennaio 1936 a letto tutto regolare no ma se ne sarà scordato fece montalbano quasi gridò io no disse la signorina gli occhi che svariavano verso un pericoloso viola e guardi che a ieri mattina gli telefonai per assicurarmi meglio che fai gli spiai sto bruciando le tue lettere mi rispose allora mi andai a rileggere il patto montalbano sentiva un cerchione di ferro che aveva principiato a serrargli la fronte sudava ha gettato via l'arma no raprì la borsetta ne tirò fora una smitten wesson centenaria enorme la diede a montalbano m'è venuto difficile colpirlo sa non avevo mai sparato prima povero corrado si è pigliato un tale spavento e ora che doveva fare isarsi in piedi e dichiararle in arresto rimase a tagliare il revolver indeciso le piace spiò sorridente la signorina angela clemenza glielo regalo tanto a me non serve più